Non so soltanto adorarti e dare la vita mia per te. Il desiderio del cuore mio è fare la tua volontà. La tua grazia mi basta e il tuo amore travolta. Andiamo a aprire la parola di Dio nel Libro dei Numeri, capitolo 33. Numeri, capitolo 33. Leggeremo due versi, nel verso 55 e nel verso 56. Numeri 33, verso 55. Ma se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese, quelli di loro da voi lasciati, saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi e vi molesteranno nel paese che abiterete. E avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattare loro. Amen. Grazie a Dio per la Sua parola, Signore benedica, per accomodarvi. Alleluia. Con l'edito di Dio stasera desidero condividere con voi pensiero, l'ammaestramento, chiamatelo come volete, una premessa da non trascurare. Il popolo di Israele è ancora in viaggio verso la terra promessa. Mosè è ancora in vita, Aronne è ancora in vita. Prima ancora di entrare dentro la terra promessa, cosa che ovviamente tutti quanti noi sappiamo, non fu sotto la guida di Mosè e da Aronne. entrambi, Aronne morì e Mosè, dice la Bibbia, anche lui morì e fu seppellito da Dio, ma questo avvenne prima che il popolo di Israele attraversasse il Giordano per prendere il possesso della terra promessa, che ripetutamente la parola di Dio dice, Dio disse al suo popolo la terra che io vi ho dato. per Dio era già qualcosa di avvenuto, era già qualcosa che era già presente, era la terra promessa, quella terra che Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco, Giacobbe. E adesso il popolo, dopo essere stato liberato dalla schiavitù di Egitto, è nel deserto in viaggio verso la terra promessa. Dio fa una serie di raccomandazioni, se andate a leggere tutto il capitolo 33, sono diverse cose che Dio dice loro, voi prenderete la terra, la dividerete tra le varie tribù, insomma è come dire un programma in anticipo, in anteprima di quello che avrebbero dovuto fare una volta entrati nella terra promessa. Ogni tribù avrebbe avuto la loro porzione di terra, ogni tribù avrebbe avuto la propria porzione della promessa di Dio. Però poi a un certo punto Dio fa questa premessa o lancia questo avvertimento al suo popolo tenendo conto del fatto che Dio, l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, Dio per mezzo dell'Apostolo Paolo, dice che le cose che sono avvenute nel Vecchio Testamento erano o sono ombra e simbolo delle cose che dovevano avvenire. Noi non stiamo andando alla ricerca di una terra promessa su questo mondo, su questo globo in cui viviamo, non c'è una parte di questo mondo che è migliore dell'altra, non si tratta di una conquista che deve essere fatta con armi, armature, tattiche di guerra e così via, ma la nostra terra promessa è il Regno dei Cieli, è la Nuova Gerusalemme, è una città celestiale che l'uomo può soltanto tentare di immaginare com'è quella città. Giovanni tenda di darci una descrizione con strade d'oro, porte di perle, mura di pietre preziose, ed è inimmaginabile una città del genere. Probabilmente Giovanni, di fronte a quella visione di quella città così straordinaria e così celestiale, non ha riuscito a trovare altre parole per descriverla meglio, ma sicuramente quando giungeremo là sarà molto di più di quello che Giovanni ha tentato di descriverci. Sarà un po' come quando la regina andò a visitare Salomone e disse che non le era stato riferito neanche una parte di quello che veramente era il regno e la sapienza di Salomone. Quando noi giungeremo nel regno dei Cieli ci renderemo conto che neanche una parte era riuscita a trasparire per le nostre menti così limitate dalla parola di Dio nel tentare di descriverci la gloria del luogo in cui noi andremo quando andremo a vivere con il Signore per il resto dell'eternità ma a prescindere della meravigliosa città a prescindere della preziosa straordinaria città la cosa che veramente farà del regno dei Cieli il regno dei Cieli non saranno tanto le porte di perle o le strade d'oro o le mura di pietre preziose ma sarà il fatto che saremo con il Signore per il resto dell'eternità perché quello che veramente rende le cose straordinarie non sono le cose che noi possiamo vedere o toccare ma quello che rende le cose straordinarie è il Signore Gesù Cristo il Re di Gloria il Salvatore del mondo colui che ha pagato il prezzo per darci una vita che vale la pena di essere vissuta su questa terra e poi darci la vita eterna noi saremo là dove Lui è lo vedremo a faccia a faccia lo vedremo così come Lui è Alleluia ma mentre siamo su questa terra vogliamo assicurarci che il nostro cammino la nostra vita sia tale da andare verso la giusta destinazione la giusta destinazione perché si può essere in viaggio con l'intento di andare in una direzione di imboccare la strada sbagliata e andare alla direzione opposta ricordo anni fa in auto siamo io e la mia famiglia siamo andati alla conferenza europea in Olanda e in quell'occasione abbiamo da Verone in poi abbiamo viaggiato insieme pure al fratello pastore Angelo di Bernardo e la sua famiglia nessuno dei due aveva un GPS allora i GPS erano qualcosa di estremamente costoso ricordo di aver di aver indagato intorno ai prezzi per comprare un navigatore allora chiedevano qualcosa come 3 milioni e mezzo di lire era fuori dalla portata delle persone comuni come noi e avevamo la cartina sia io e mia moglie consultavamo la cartina noi eravamo avanti ma anche il fratello Angelo di Bernardo e sua moglie controllavano la cartina ricordo che in una particolare occasione convinto di andare nella giusta direzione eravamo sulla strada giusta facciamo fin da ovviamente era in Olanda facciamo fin da che fosse la A1 ed eravamo sulla strada giusta era la A1 però stavamo andando nella direzione opposta a quella verso cui dovevamo andare e dopo dopo un po' noi ancora continuavamo a pensare che stavamo andando nella giusta direzione con tutti quei nomi strani scritti in una lingua che noi che noi non comprendiamo ma dopo dopo un po' il fratello Angelo di Bernardo chiamò al cellulare e ha detto pastore credo che stiamo andando nella direzione sbagliata siamo sulla strada giusta ma la direzione opposta a quella verso cui noi dobbiamo andare e quindi alla prima occasione abbiamo fatto abbiamo fatto l'inversione A2 per continuare a restare sulla strada giusta ma questa volta andare nella direzione giusta perché non basta essere sulla strada giusta dobbiamo andare nella giusta direzione non basta sapere in che cosa o in chi abbiamo creduto dobbiamo vivere in colui o per colui che abbiamo creduto dobbiamo camminare in modo a far piacere a colui che ha pagato il prezzo per noi non basta venire in chiesa dobbiamo dobbiamo venire in chiesa servendo il Signore perché quando il servizio finisce e magari il pastore non ha predicato esattamente quello che avremmo voluto sentire là fuori ci aspetta un mondo che ha bisogno di vedere la luce che c'è in noi abbiamo bisogno di vivere costantemente e coerentemente da cristiani non basta soltanto battere le mani e cantare dobbiamo far risplendere la sua luce per mezzo della nostra vita alleluia vivere camminare per Dio mentre siamo in viaggio verso la città celestiale è la stessa premessa che Dio fece al popolo di Israele essendo ombre e simbolo delle cose che dovevano avvenire o parte delle ombre dei simboli delle cose che dovevano avvenire dobbiamo prendere insieme a considerazione questa premessa anche per noi Dio disse al popolo di Israele quando voi prenderete la terra e entrerete nella terra e la distribuirete tra di voi cosa che poi avvenne sotto la guida di Giosuè ha detto c'è qualcosa per cui voglio darvi un avvertimento se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese quelli di loro da voi lasciati Dio sta facendo sta facendo qua una premessa basandosi sul fatto che lui sapeva già che il popolo avrebbe il popolo Israele avrebbe lasciato dei popoli in mezzo a loro o per convenienza o perché sarebbe costata troppa fatica o perché sarebbero stati tratti in inganno ricordate la storia di quelle di quel di quel gruppo d'uomini che andarono incontro a Giosuè vestiti di vestiti logori con sandali logori avevano avevano le loro bisacce del pane del pane molto vecchio per dire noi abbiamo sentito di tutte le cose che il vostro Dio ha fatto e veniamo da molto lontano e siamo qua per fare lega con voi e Giosuè senza interrogare Dio fece patto con quelle persone promise loro che non avrebbe loro tolto la vita che sarebbero vissuti con loro pacificamente qualche giorno dopo scoprirono che invece era una città della terra promessa non molto lontano da dove loro erano già giunti ma ci sono stati altri residui di popoli che loro hanno lasciato nella terra promessa o perché avevano i carri di ferro o perché erano in alta montagna o semplicemente perché hanno preferito lasciarli in mezzo di loro e Dio dice se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese quelli di loro da voi lasciati quelli che avete lasciato per scelta quelli che avete preferito lasciare là saranno saranno per voi come spine negli occhi e non so quanti voi abbiate mai avuto una spina nell'occhio già avere qualcosina nell'occhio una cosa minima dà un fastidio incredibile io non l'ho mai provato ma suppongo che avere una spina nell'occhio sia estremamente fastidioso e Dio dice saranno per voi come spine negli occhi e come pungoli ai fianchi e vi molesteranno vi porteranno vi faranno un'altra versione dice vi faranno tribolare nel paese che abiterete cosa sta dicendo qua Dio cosa sta cercando di dire alla sua chiesa del 2015 fra poco ci evolveremo e saremo la chiesa del 2016 questa è l'unica evoluzione che avviene passare da un anno all'altro e quindi dobbiamo adeguarci ai tempi ma questa è l'unica cosa a cui possiamo adeguarci perché non abbiamo scelta e non corre il rischio di scendere a compromesso ma ci sono molte cose per cui dobbiamo stare con gli occhi aperti dobbiamo stare attenti dove mettiamo il piede perché se non stiamo attenti dove mettiamo i piedi c'è il pericolo che sprofondiamo c'è il pericolo che inciampiamo c'è il pericolo che cadiamo e non c'è nessuna garanzia al mondo che quando quando si cade ci si può rialzare ho sentito a volte qualcuno dire io non ho mai provato il mondo vorrei andare a vedere giusto per sapere come stanno le cose ma dove è scritto che Dio ti darà o ci darà un'altra la possibilità di tornare indietro qualcuno dice c'è la parabola del figlio prodigo non tutti i figli prodighi sono tornati ci sono alcuni di cui la parola di Dio parla che sono arrivati così lontani sono caduti così in basso che non possono più tornare indietro non perché Dio glielo proibisca ma perché si viene a creare una condizione nel cuore umano per cui non si ha più la forza o il coraggio di ritornare sui propri passi e ammettere che si è commesso un errore e chiedere perdono a Dio quando quando l'orgoglio riesce a sedere sul trono del cuore dell'uomo nessun altro Dio è in grado di detronizzarlo è il peggiore dittatore che un individuo possa conoscere nella propria vita la dittatura del proprio io la dittatura del proprio orgoglio la dittatura del proprio peccato vi faranno tribolare quindi spine negli occhi pungoli ai fianchi e tribolazione problemi difficoltà cosa sta cercando di dirci Dio Dio ci sta dicendo che se noi prendiamo alla leggera le cose che Dio per mezzo della sua parola la parola scritta e la parola predicata ci comunica se noi le prendiamo con leggerezza diciamo no ma questo non mi dà fastidio questo riesco a controllarlo questo riesco a controllarlo questo mi fa comodo i popoli in mezzo di noi taglieranno la legna per noi andranno a prendere l'acqua per noi saranno i nostri servi ci aiuteranno ma non solo ci fu un grande numero di popolo misto che andarono insieme ad Israele quando uscirono dal paese di Egitto e molti dei problemi di Israele scaturì anche da quella folla di popolo misto le persone che ingannarono Giosuè gli anziani del popolo alla fine divennero i tagli a legna divennero quelli che andavano ad attingere l'acqua una bella comodità però Dio ha detto proprio quegli abitanti del paese da voi lasciati saranno o diventeranno per voi spine negli occhi pungoli ai fianchi e vi faranno tribolare nel paese che abiterete il paese che deve e che dovrebbe essere un paese di promessa un paese dove stilla dove scorre latte e miele ma a causa della scelta della leggerezza con cui avete fatto certe scelte a causa del fatto che certe cose voi le avete volute considerare a modo vostro secondo i vostri parametri e non secondo la parola di Dio secondo quello che io vi ho ordinato sta dicendo Dio ad Israele vi ritroverete in mezzo alle spine in mezzo ai triboli in mezzo ai problemi e oggi più che mai noi viviamo in una società in cui la tendenza la filosofia è tutto fa brodo tutto va bene niente sbagliato ognuno può fare quello che vuole ognuno legge a se stesso e se noi non stiamo attenti questa questa tendenza questa filosofia questo modo di vita può influenzarci e può indurci a cominciare a pensare come loro e quando quando il mondo comincia a dare il suo sapore alla chiesa la chiesa ha già smesso di esistere è la chiesa che deve dare il suo sapore al mondo che deve insaporire il mondo il sale dà sapore il sale conserva una volta le conserve quando si conservava il pesce non c'erano chimici o conservanti artificiali si faceva con il sale e noi siamo il sale della terra noi siamo la luce del mondo e la nostra vita deve essere tale in modo da non da non creare delle condizioni di compromesso che comprometteranno la nostra salvezza la nostra spiritualità la nostra integrità morale e la salvezza di chi ancora non conosce Dio e che guardando in verso di noi non troverà nessun punto di riferimento vedrà forse una lampada ma non riesce a vedere una luce una lampada che non emane luce è una lampada inutile superflua ma noi dobbiamo essere la luce del mondo la luce del mondo ma Israele quando può arrivare nella terra sicuramente voi avete ampia conoscenza di questo così come abbiamo ho già accennato un gruppo di persone lasciate per una ragione un altro gruppo per un'altra ragione magari poi li indussano a diventare i loro servi ma solo per un po' perché quelle persone che inizialmente erano motivo di convenienza per il popolo di Israele divennero spine agli occhi pungoli ai fianchi e motivo di tribolazione di problemi furono le persone lasciate in mezzo di loro che col tempo riuscirono ad influenzare Israele a rivolgersi all'idolatria voltando le spalle al solo ed unico Dio furono i popoli lasciati che influenzati dalla dalla filosofia del falso profeta Balaam che quando Dio non gli permise di maledire il popolo di Israele per il re Balak alla fine ha detto al re Balak senti io non posso maledire ciò che Dio vuole benedire però vieni e ti mostrerò un modo ti insegnerò dei trucchi ti farò vedere in che modo essere motivo di rovina per il popolo che tu vuoi che io maledica e che non posso maledire perché Dio lo benedice e se noi se noi andiamo a studiare attentamente la parola di Dio quello che Balam fece fu quello di suggerire a Balak di mettere in punti strategici nei dintorni dell'accampamento di Israele delle donne che avrebbero cominciato a sedurre gli uomini di Israele e che successivamente non solo le avrebbero sedotti dal punto di vista sessuale ma le avrebbero pure condotti verso la strada dell'idolatria le avrebbero portati ad adorare i loro idoli le loro divinità allontanando il cuore del popolo di Israele dal solo unico e vero Dio e questa tattica questo modo di essere questo modo di agire da parte dei popoli che non servivano il Signore è sempre stata attiva nei riguardi del popolo di Israele quelle persone che Israele e quei popoli e quegli abitanti che Israele lasciò in mezzo di loro in un modo o nell'altro nel tempo inducevano o portavano Israele all'idolatria con la conseguenza di essere portati eventualmente in cattività in esilio perché avevano preso alla leggera quello che Dio aveva detto Dio aveva detto cacciate i popoli che ci sono in quella terra prendetene possesso in modo assoluto e cacciate tutti i popoli che ci sono in quella terra perché altrimenti diventeranno spine nei vostri occhi e sorella non continuare a custodire gelosamente quel paio di pantaloni nel tuo armadio che ogni tanto vai a guardare ricordi i tempi in cui li indossavi è solo questione di tempo che il diavolo ti dirà provali vedi se ti stanno ancora bene e dopo che li avrai provati e ti sarai specchiata davanti allo specchio e li rimetterai là ma dopo un po' la mente continuerà ad essere là e il diavolo in un modo o nell'altro cercherà di riportarti alla mente ciò da cui Dio ti ha chiesto di liberartene o forse in quel cassetto dove ancora custodisci gli ultimi belletti che hai comprato per cambiare il colore delle tue guance o il colore della tua pelle o il colore delle tue unghie li hai lasciati là tanto dice non mi danno fastidio non li uso solo per ricordo solo per souvenir oppure siccome li hai regalati tizio o caio mio padre mia madre o mio fratello o il mio fidanzato o il mio o mio marito non voglio offendere quindi continui a custodire quei tesori che saranno soltanto motivo di spine negli occhi e pungoli ai tuoi fianchi saranno motivo di tendazione che il diavolo non mancherà di utilizzare per cercare di riportarti nella stessa condizione di schiavitù in cui tu eri prima di essere venuto alla conoscenza di Dio perché alla fine quando Israele fu liberato dalla schiavitù di Egitto per poi ritrovarsi in cattività in Babilonia per quale motivo perché avevano scelto di lasciare in mezzo di loro degli abitanti che sarebbero stati spine negli occhi pungoli ai fianchi e sarebbero stato motivo di tribolazione per loro e quando si trovarono in esilio in Babilonia avevano appeso le loro arpe agli alberi perché dicevano non abbiamo nulla da cantare non abbiamo nulla per cui essere contenti perfino il popolo che li aveva portati in cattività diceva cantateci dei canti della vostra nazione cantateci dei canti che cantevate al vostro Dio e loro sono là che hanno perso perfino il desiderio di riportare alla loro mente qualcosa che li collegava con Dio erano non solo in schiavitù fisica erano stati ridotti in schiavitù mentale perché non avevano scacciato davanti a loro per personalizzarlo quelle cose che erano state da Dio quelle cose che sono da Dio dalla parola di Dio indicate come negative per la nostra vita spirituale tramite la parola scritta la parola predicata come per Israele noi a volte facciamo delle scelte che vengono suggerite dalla convenienza o dall'opportunità o dal non voler essere offensivo ora nessuno di noi deve assumere un atteggiamento offensivo ma se ad offendere è la verità se ad offendere è lo stile di vita cristiano allora in quel caso noi non dobbiamo preoccuparci se gli altri si offendono o meno perché altrimenti quelle cose per cui noi assumeremo un atteggiamento ambiguo superficiale tra virgolette tollerante e non sto parlando di intolleranza nei riguardi delle persone sto parlando di intolleranza nei riguardi del peccato sto parlando di intolleranza nei riguardi dell'immodestia dell'immoralità della menzogna così come ho detto qualche qualche servizio fa l'ho sentito dire a un nostro predicatore la quasi verità è menzogna il quasi promosso è bocciato non possiamo non possiamo parlare di di mezza verità perché la mezza verità è una menzogna intera ma se non schiacciare davanti a voi gli abitanti del paese se non ti separi da tutte quelle cose contro cui la parola di Dio parla quando la parola di Dio parla di vestirci con modesti e vericondia quando la parola di Dio ci insegna a vivere per essere la testimonianza al mondo quando la parola di Dio ci insegna di non mettere nessuna iniquità davanti ai nostri occhi non è importanza quale sia la fonte non è importanza quale sia la fonte non è importanza qual è la tua età ma proprio Dio lo dice esplicitamente non metterò alcune iniquità davanti ai miei occhi ma qualcuno dice no io sono in grado di controllarlo come Israele pazienza ci taglieranno la legna pazienza andranno ad attingere l'acqua per noi lavoreremo un po' di meno non dovrò leggere il giornale vedrò il notiziario prima ancora di accorgersene cominciano ad esserci quelle spine negli occhi non si è più in grado di avere una visione corretta quando c'è una spine nell'occhio l'occhio comincia a lacrimare si arrossano non riusciamo a tenerlo aperto e alla fine pur vedendo diventiamo ciechi quando si è punzecchiati io non so se avete mai avuto una spina in qualsiasi parte del corpo qualche volta nella 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 mini giungla che c'è sul retro di casa nostra ci sono delle piante di fichi d'India quando quando Tony era ragazzo prima ancora di andare a vivere a Milano una volta le avevo praticamente sterminate dopo qualche giorno dopo qualche anno sono cresciute più alte che mai quando a volte cerco di togliere le erbacce soprattutto in prossimità del periodo estivo per evitare che possa esserci il pericolo di un incendio magari non mi accorgo di essere sotto sotto quelle piante di fichi d'India mi alzo do una testata e delle spine si attaccano al mio cuoio capelluto ma non vanno oltre c'è soltanto un piccolo strato di pelle e poi c'è una corazza e la corazza è per proteggere il tesoro che c'è dentro però è fastidioso oppure se pulite i fichi d'India che sono ottimi da mangiare poi vi rimangono le spine in mano sono fastidiose andate a lavarmi e sentite una spina che vi punge se volete un suggerimento c'è un metodo molto semplice per togliere le spine dalle mani dei fichi d'India e non sto scherzando prendete il rasoio elettrico se l'avete fatto voi fratelli anche voi sorelle potete usarlo e passarlo nelle mani spariranno tutte le spine in qualsiasi posto dove siete le spine passate il rasoio elettrico e avete finito la tecnologia serve a qualcosa non è che togli solo le spine qua le togli pure qua però avere una spina nell'occhio un pungolo ai pianti vivere per Dio sollecitati e disturbati da cose che deliberatamente abbiamo lasciato nella nostra vita pretendere di vivere per Dio continuando a convivere con cose che non piacciono a Dio è come avere spine negli occhi pungoli ai fianchi decidere di voler essere tribolate il resto della nostra vita nessuno di noi sceglie di avere problemi però spesso scegliamo di avere problemi spirituali perché perché piuttosto che adeguarci alle indicazioni di Dio facciamo il nostro modo a modo nostro faccio a modo mio fai a modo tuo e poi ci ritroviamo ad essere usciti dalla schiavitù del peccato per a poco a poco ritornare nella stessa condizione magari in un posto diverso non è più l'Egitto è Babilonia dalla padella alla brace qualche giorno fa per indicare una situazione di peggioramento ho detto dalla brace alla padella ma è tutta una questione di opinione dipende se piace essere bruciato dal fuoco o essere fritti nell'olio cambia soltanto il nome di ciò che ci teneva oppressati Egitto Babilonia ma tutto questo so perché Israele non prestò attenzione all'avvertimento che Dio aveva loro dato andrete là prenderete la terra la dividerete tra di voi c'è abbastanza pascolo c'è acqua la terra è la terra scorrelata e miele è una terra prospera è la terra che io ho promesso a vostro padre Abramo sarà divisa tra di voi ma se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese se non decidete di non vivere secondo quelle che sono le tendenze del mondo in cui noi viviamo se non decidete di vivere senza farvi influenzare dal mondo in cui noi viviamo se deliberatamente sceglierete di cercare di continuare a convivere con cose che facevano parte della vostra vita prima di conoscere Dio quelli di loro da voi lasciati dice Dio saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi e vi faranno tribolare nel paese che abiterete e poi il verso 16 trasforma o lì Dio della promessa si trasforma nel Dio del giudizio e avverrà che io dice Dio tratterò voi come mi ero proposto di trattare loro quello che Dio qua sta dicendo è non è che lui ha dei pregiudizi contro questo o quell'altro popolo il giudizio di Dio è contro il peccato a prescindere di chi commette il peccato e qua Dio sta dicendo siccome quel popolo o quei popoli sono dei popoli idolatri dei popoli immorali dei popoli corrotti moralmente saranno giudicati se voi vi lasciate influenzare da loro e prenderete le loro abitudini comincerete a comportarvi come loro si comportano mi volterete le spalle vi darete all'idolatria vi darete all'immodestia vi darete all'immoralità vi darete alla menzogna bene il giudizio con cui avrei giudicato loro giudicherò voi in altre parole Dio sta dicendo non dobbiamo prendere per scontato il fatto che noi siamo salvati la Bibbia dice che noi dobbiamo operare la nostra salvezza con timore e tremore grazie a Dio per aver conosciuto il Signore ma ogni giorno io devo chiedere il suo aiuto e devo fare del mio meglio per vivere come piace a Lui e per vivere come piace a Lui devo evitare nella mia vita quello che a Lui non piace e genitori nonni quello che voi siete è quello che voi consentite ai vostri figli perché la vostra come genitori siete responsabili se non è secondo la parola di Dio quello che voi siete quello che voi consentite ai vostri figli porterà loro eventualmente nella stessa condizione di schiavitù del peccato è così importante che noi prendiamo in seria considerazione l'avvertimento di Dio ma se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese quelli di loro da voi lasciati quelli che avete lasciato deliberatamente per vostra scelta ci sono case cristiane in cui circolano riviste che un cristiano non dovrebbe neanche a cui un cristiano non dovrebbe neanche pensare ci sono case cristiane in cui circolano DVD che non dovrebbero neanche esistere nei pensieri ci sono case cristiane in cui Dio nella migliore delle ipotesi è un ospite occasionale ci sono case cristiane forse dovrei dire che si considerano tali in cui Dio è soltanto un attributo per identificare una religione non meglio identificata ma che non ha alcun valore morale non ha alcun peso morale quelli di loro da voi lasciati saranno per voi come spine negli occhi pungoli ai fianchi vi faranno tribolare e avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattare loro non c'è alcuna differenza tra uno di noi che va in chiesa e che magari ha ricevuto lo spirito santo ed è stato battezzato le accole in nome del Signore Gesù Cristo è uno del mondo quando per ipotesi usciamo dalla stessa edicola o andiamo alla stessa edicola e andiamo via da quell' edicola con lo stesso tipo di rivista o con lo stesso tipo di letteratura se vogliamo chiamarla così rivista o letteratura che non edifica i pensieri da onore a Dio non ci educa e non pone un buon esempio agli occhi di coloro che ci osservano nella speranza di trovare un punto di riferimento quello che noi siamo è importante e quindi dobbiamo essere sicuri di essere come Dio vuole che noi siamo che la salvezza di qualcuno potrebbe dipendere dal semplice fatto che vi sta osservando e se quel qualcuno è il vostro figlio è il vostro figlio ho sentito un nostro fratello dire nella dentro l'arca tutti si chiamavano avevano lo stesso nome Noè la sorella Noè i figli di Noè anche se si chiamavano Sam Cam Yafet però era Sam figlio di Noè Yafet figlio di Noè Cam figlio di Noè era allora così che si identificavano le famiglie moglie di figlio di e le mogli dei tre figli di Noè erano moglie di Afet figlio di Noè moglie di Cam figlio di Noè moglie di Sam figlio di Noè tutti avevano lo stesso nome nella chiesa tutti abbiamo lo stesso nome ma dobbiamo assicurarci di fare onore al nome che noi portiamo e quel nome è Gesù e Gesù ha pagato il prezzo per vincere il peccato e darci la vita e ogni qualvolta un cristiano non vive secondo la parola di Dio sta dicendo Dio hai sprecato ogni tua singola goccia di sangue perché io vivo a modo mio spina gli occhi pungola i fianchi tribolazione e alla fine il giudizio di Dio e noi noi non vogliamo nulla di tutto questo perché la nostra destinazione è gloriosa chiesa abbiamo più che una valida ragione per vivere da cristiani più che una valida ragione per camminare da cristiani più che una valida ragione per parlare come cristiani per vestirci come cristiani per atteggiarci come cristiani e non abbiamo alcuna ragione al mondo per vergognarci di essere cristiani abbiamo il diritto ad un sano orgoglio di essere cristiani figli di Dio alleluia l'Apostolo Paolo dice io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo che è la potenza di Dio a salute per tutti di quelli che credono alleluia una premessa da tenere in seria considerazione un avvertimento da tenere in seria considerazione sii vigilante sii attento non scegliere a modo tuo ma scegli a modo suo secondo la sua parola scritta e predicata vogliamo giaccia in piedi la tua azione mi accorge e per te così dolce voglio stare con te voglio stare con te voglio stare con te a